gentili telespettatori buona giornata la sinistra si crede sempre nel giusto è molto pericolosa sia l'atteggiamento che in sé la sinistra lui è Ugo Volli semiologo e filosofo triestino nato nel 1948 lui da ragazzo sceglie la sinistra dopo la guerra ovviamente come tutti a quei tempi a vent'anni occupa la statale poi a 40 si trova con i progressisti scrive su repubblica lavora con Umberto Eco frequenta Feltrinelli e poi oggi è un commentatore politico di cose israeliane beh non è più di sinistra non è probabilmente né un conservatore ma sicuramente non è più di sinistra infatti da tempo i salotti quelli radical chic delle televisioni non lo chiamano più anche case editrici e testate giornalistiche fiancheggiatori della sinistra non lo non lo calcolano più ovviamente vabbè lui poi parla di dove è la sua famiglia fa una specie di una sorta di di intervista racconta le vicissitudini eccetera eccetera però poi arriva arriva a parlare poi di sua madre sua madre della parte intellettuale della sua famiglia si ha poi ricevuto una una formazione religiosa va a studiare poi a Milano è nella nella parte della sinistra giovane c'è poi c'è il caso del 68 e poi è una intervista lunghissima e poi comincia a vedere le cose in maniera diversa dice io pian piano macimisi degli anni incominciai a capire che c'era un problema che le cose che dicevamo ad esempio lo stato borghese si abbatte non si cambia erano non semplicemente degli slogan qualcuno presto avrebbe cercato di metterle in pratica il momento in cui per me questa cosa divenne chiarissima fu il 1977 ma ero già a insegnare a bologna al dams chiamato da umberto eco lui poi si è si è laureato eccetera eccetera poi c'è l'incontro con umberto eco il legame con umberto eco poi transita per alcune radio alla fine si arriva negli anni di maurizio costanzo show e poi comincia una riflessione una riflessione politica si parla degli anni di piombo eccetera eccetera è una è un'intervista che potrebbe essere potrebbe essere un assolutamente un libro perché è lunghissima a quel punto di giornalista chiede ma lei è un conservatore cioè dalla sinistra si è spostato alla destra dice io non so se definirmi oggi un conservatore ho letto con molto interesse scruton per esempio conservatore nel senso anglosassone sul nazionalismo jarman aznoi mi è molto piaciuto secondo me dice importante recuperare oggi questa logica in una situazione in cui da un lato ci sono degli imperi che non dicono di essere imperi ma che lo sono e stanno cercando di consolidarsi e dall'altro in cui c'è una retorica dei diritti dei lavoratori che una retorica conservatrice progressismo dice conservatorismo si sono scambiati i temi se non i ruoli cosa che si vede anche nei risultati elettorali cioè lui dice oggi quelli di sinistra sono i conservatori quelli estremisti sono a sinistra ci sono scambiati i ruoli per questo che lui dice probabilmente oggi sono un conservatore perché sono i conservatori quelli veramente di di sinistra e aggiunge quelli che in questo momento vogliono conservare o ritornare indietro a uno stato di cose peraltro fallito sono le sinistre mentre il cambiamento il tentativo di trovare nuovi equilibri siano invece prevalentemente appannaggio della destra una situazione che è difficile paragonare a quello che succedeva 50 anni fa credo che ci sia un grande problema di cultura politica cioè che ci sia poco pensiero poca filosofia politica in questo momento vedo che si lascia spazio a personaggi e anche a stili di pensiero come la geopolitica che sono in realtà molto superficiali ci sarebbe bisogno di ripensare le ragioni e ai fini della convivenza lui addirittura rituita anche cose che fa che dice salvini perché dice salvini in una certa frase mi è piaciuto e mi è sembrato demonizzato c'è una macchina dell'informazione che cerca di triturare gli avversari senza riconoscerli faccio un esempio che non c'entra con salvini ho visto un'intervista fuori dall'italia io avevo un'idea e naturalmente hanno girato la frittata per mostrare che questa persona era e aveva torto e lo fanno anche con una certa arte no girano le frittate con arte beh insomma questo è quello che praticamente io vi ho raccontato vi ho raccontato da da tempo beh insomma poi sui media sui giornali dice ho capito che non posso fidarmi dei giornali ho sempre pensato che sarebbe stato utile avere un giornalismo che praticava davvero i fatti separati dalle opinioni mi meraviglio molto del fatto che nella crisi del giornalismo che c'è oggi che drammatica i giornalisti in genere non si pongono il problema di dare un servizio al lettore come era in origine rispetto a un elettorato vasto ma comunque di elite perché non fornire quella merce rara che sono le informazioni controllate esatte sobrie in questa maniera tu giornale ti metteresti al mio servizio mi venderesti una merce preziosa come il panettiere riesce a vendermi del pane buono perché non c'è nessun altro che lo fa così oggi dice non c'è nessun giornale che prova a farlo mentre tutti cercano di spiegarmi come dovrei pensare cioè di convincermi che dovrei fare questo quell'altro non solo in tempi elettorali ma sempre la conseguenza è che quindi uno deve andare in giro a cercarsi le cose in rete con tutti i rischi che questo comporta beh su sui giornali come sono oggi anche questo ve ne ho parlato spesso non ci si può affidare di quasi nessun giornale perché fanno solo propaganda e tifoseria e ti girano tutte le notizie come viene loro comodo e appunto uno si deve cercare le notizie da solo e farsi un'idea da solo grazie a tutti e arrivederci a presto